Good morning Juventus. L'epopea allegriana continua nel mio video della mattina. Oggi parliamo degli errori di Allegri, senza polemica e senza credine nei suoi confronti. Però secondo me, con i dati che andrò a snocciolare, anche chi è difensore di Allegri, se non ha il prosciutto sugli occhi, o se non è falso, non può negare che sia vero ciò che sto per dire. Bene, allora, al di là dei gusti personali dei giocatori che fa o non fa giocare, e qui non si può sindacare perché lui è l'allenatore, noi siamo esterni, vediamo delle prestazioni opache, per non dire pessime, e non ci piacciono. Però la prova a contrario non c'è perché sapete che chi è in panchina si dice sempre ragione, poi magari quando subentrano non fanno nulla, per cui non si può certo ragionare con i sé e con i ma. Allora vado sul reale, non sul ipotetico, sul putativo. Benissimo. Io credo che il più grande errore che commette Allegri non è soltanto quello di avere un tipo di mentalità di gioco arcaica, difensivista, protettiva, chiamatela come volete, ma è il fatto di mettere quasi tutti i giocatori che hanno anche del talento, volendo, fuori ruolo. Iniziamo. Lo Catelli è una buona mezzala e lui lo fa giocare regista, quindi fuori ruolo. Cambiaso è un'ottima alla sinistra e un buon tazzino sinistro e lui lo fa giocare o interno di centrocampo a destra o quinto a destra. Kostic era, prima di arrivare alla Juventus, un buon crossatore, quindi una buona alla sinistra, che purtroppo non sta dimostrando la Juventus, lo sta facendo giocare terzino. Di fatto, perché il quinto di sinistra è spesso terzino, visto che a destra c'è Danilo, che non è un centrale difensivo, ma è un terzino destro, quindi fuori ruolo Kostic, fuori ruolo Locatelli, fuori ruolo Danilo. Chiesa è un'ala sinistra, molto forte, può giocare anche da destra, lo fa giocare seconda punta, fuori ruolo. Il discorso si può protrarre con altri giocatori, McKennie è un centrale di centrocampo, o interno di centrocampo, lo fa giocare spesso ala. UEA dovrebbe essere alla destra, non lo fa giocare. Praticamente lui è naturale. Milik è un centravanti, una prima punta che si può adattare in teoria a seconda punta, lo fa giocare centrocampista di raccordo. L'unico giocatore che fa giocare nel suo ruolo naturale è Vlaovic, che è prima punta, e Rabiot, che è appunto una mezzala sinistra. Per il resto, Bremer, ok, centrale difensivo, ma per il resto sono tutti giocatori fuori ruolo. Allora, molti dicono, ma come mai i giocatori vengono alla Juventus se sono forti in altre squadre e alla Juventus con Allegri imbrocchiscono, diventano dei brocchi. Conte prende i giocatori normali in giro, li porta alla Juventus o li porta all'Inter o li porta al Chelsea o li porta dove volete voi e diventano forti. Come mai? Anche al Tottenham è riuscito a far giocare bene Betancourt e Kurzeski, che non è che sono due eri di Dio. C'è riuscito. Perché? Perché Conte dà un dettaglio di gioco e mette i giocatori nel ruolo dove loro rendono meglio. Cioè, se uno sa disegnare, è inutile che si metta a fare fotografie. Se uno sa fotografare, è inutile che si metta a disegnare. Se uno sa cantare, è bene che canti, non che suoni uno strumento. Se uno sa suonare uno strumento può evitare di cantare se non è un grande cantante. Insomma, ad ognuno il suo ruolo. Questa sua perversione, perché per me è una perversione a livello calcistico, di mettere tutti i giocatori fuori ruolo, secondo me, se la Juve può rendere 100, così facendola fa rendere 50-60. Quindi lui butta alle ortiche un potenziale più alto di quello che in realtà non viene espresso in campo. O non esistono più i ruoli, ma non mi sembra. Non mi sembra perché un centrocampo come quello dell'Inter, fatto da Mkhitaryan, Cialanoglu e Barella, è un centrocampo completo perché ha quantità, qualità e forza. Un centrocampo come quello della Juventus, dove ci sono tutti i giocatori fuori ruolo, a parte Rabiot, un centrocampo che giustamente quando arrivano i palloni, chi lo riceve non sa cosa fare letteralmente con la palla. Milik lo si utilizza in un ruolo che non è suo, Chiesa è snaturato. Addirittura l'ultima partita, l'ultima, l'ultima, Ildiz, che doveva essere a seconda punta a fianco di Vlaovic a San Siro, lo ha fatto giocare mediano, il vecchio mediano, e che era sempre indietro rispetto addirittura ai centrocampisti che si sovrapponevano. Per cui dopo uno dice ha giocato male Ildiz, ha giocato male Vlaovic, ha giocato male Merener, ha giocato male Danilo, ha giocato male Kostic, ha giocato male qui, ha giocato male là. Poi anche l'ostinarsi a voler far giocare due giocatori imbarazzanti come Sandro e come Mieretti, che lo vedono tutti, tutti, anche gli allegriani credo che vedano questa cosa, sono imbarazzanti, sono due giocatori che ti mettono veramente in imbarazzo quando li vedi giocare con la maglia di Juventus e lui si ostina a farli giocare, tenendo in panchina Rugani al luogo di Sandro e appunto Iling Junior, scusate, e Nicolussi Caviglia eventualmente, oppure interno del centrocampo meccanico, a destra, al posto di Mieretti. Per non parlare di Kostic, dove volendo ha proprio ruolo naturale cambiaso e addirittura Iling Junior. Per cui mette i giocatori fuori ruolo, mette in campo giocatori che non hanno né capo né coda, che non hanno senso, è ovvio che la Juventus con lui non vincerà mai nulla. Non vincerà mai nulla. È come se io voglio prendere un autista d'autobus e lo metto sulla Ferrari, va bene, e prendo un motociclista e lo metto su un autobus. Magari se la può anche cavare, ma, cioè, ognuno ha il proprio mestiere, come si dice, ognuno ha ognuno il suo. Se uno sa fare una cosa, deve essere sfruttato per quella cosa. Tutto qua, tutto qua. Cioè, Edison ha inventato la luce, no? Ma non lo usavano per abitare le lampadine, ok? Eh, quindi, bisogna, a mio modo di vedere, prendere un allenatore, sceglierà poi giuntoli, sceglierà la società, che metta, prima di tutto, i giocatori nei loro rispettivi ruoli, in modo tale che potremo anche valutarli e giudicarli. Perché, ripeto, noi stiamo vedendo delle prestazioni sotto tono, sotto livello, perché, secondo me, il fatto di non essere nel ruolo, che, come quando voi andate in un posto dove non vi trovate a vostro agio. Io, in questa mia esperienza lavorativa di YouTube, ho fatto delle live, ho frequentato dei canali dove non mi trovavo a mio agio, e mi sono permesso di dire, ragazzi, non mi trovavo a mio agio, c'è chi ha accettato con grande garbo, con grande educazione, come il mio amico Nesco, il mio amico Zoccolo Duro, ci sono stati altri che questa cosa non hanno accettata, come se io fossi importantissimo, io invece c'era un signor nessuno. Per cui, ognuno deve sentirsi a proprio agio. Se uno va in un ambito lavorativo, in un ufficio, in un'azienda, in una ditta, dove non si trova bene, non potrà mai rendere, mai rendere, come potrebbe nel suo potenziale. E questo, ovviamente, è la palissiana nel mondo del calcio. Se tu snaturi i ruoli dei giocatori, li metti in condizione di rendere meno del loro potenziale, tu non avrai mai una resa massima. Il fatto che la Juventus sia seconda, che per molti è un miracolo, che per me non lo è, invece. Per me non lo è, perché Milan ha fatto un inizio di campionato disastroso. Tant'è che aveva davanti Fiorentina, aveva davanti Bologna, aveva davanti addirittura, per un certo periodo c'ha avuto anche il Torino davanti. Poi si è ripreso e si vede che adesso il Milan sta andando. Le altre squadre, Lazio di Napoli hanno overperformato l'anno scorso. Cioè, è stato un campionato analogo primo il Napoli, secondo la Lazio. Non succederà mai più. Io ve lo dico, non succederà mai più nei prossimi cinquant'anni, è una cosa del genere. Primo Napoli, secondo Lazio. Saranno sempre Inter, Juventus e Milan, quelle che si giocheranno allo scudetto. Vedrete, sempre loro tre. Magari può capitare un anno che una squadra imbrocca gli acquisti agli astri a favore, come è successo a Napoli l'anno scorso, e fermerà una di queste tre. Ma il calcio in Italia è da sempre, diciamo, nelle mani di queste tre. Per cui, signori, il fatto che la Juventus sia seconda è il minimo sindacale. Ma io sono convinto che un allenatore che facesse il suo compito, il suo dovere, in maniera intelligente, in maniera... cioè, che poi non è che deve fare chissà che cosa, mettere i giocatori nei loro ruoli. Fatto questo, sei già a metà dell'opera. Dopo, instilli la voglia di vincere, fai motivazionale, insegni qualche movimento in campo e risolvi i problemi. Vedi mo' come poi dopo lotti per lo scudetto con l'Inter o con chiunque altro e non fai delle figure barbine come hai fatto con l'Empoli, con una formazione allucinante e a Milano con un'impostazione allucinante. Questi per me sono i gravi errori di Allegri. Good morning, Juventus! Buon appetito! Grazie a tutti